Altro giro, altra corsa, amichevole con il nostro mazzo mago. Sempre amichevole, eh? Io mi sono costruito un mazzo abbastanza veloce, però a quanto pare non così... Abbastanza? Probabilmente. Aia! Vediamo un po'. Dunque, un caro ragno, un missile arcani, il guardiano e l'arma scura. All'inizio ho bisogno di roba rapida, quindi... Questa con provocazione me la terrei. No, cambia anche questo, dai. Via. Maaah, che porcata! Vediamo. Parte in grande stile, ragazzi, giustamente. Io allora a sto punto, sai cosa faccio? Mi metto un... Ho fatto una cazzata, infatti. Ho sbagliato. Però, vabbè. Finito! Via. Sì, le magie a differenza degli attacchi possono attaccare lo stesso l'eroe, anche se c'è... Anche se ci sono queste carte di provocazione. Cosa ho messo giù? Ho messo giù un rabbio tra attacco. Un rabbio vuol dire al momento in cui è inattaccato ed è ancora vivo. Ho un due... Eeeh... Dannazione. Non sto messo bene già in partenza, la cosa mi dà veramente fastidio. Al terzo giro non ho ancora messo giù... Al secondo giro non ho ancora messo giù niente. È pericoloso. Datemi il metallo! Dunque... Allora, abbiamo sicuramente da mettere giù provocazione perché... 3, 1, 4... Se metto giù questo, me li secca... Me non secca, però ci proviamo lo stesso. Guardi i missili arcani, vediamo... Bene. Ok. Posso quindi seccarli questo... Finito! E aspettare il turno dopo. Un po' un rischio, ma... Proviamo. Questa è una combinata micidiale, devo seccarli il prima possibile. Ok. Dunque... Abbiamo... 4. 4. Possiamo mettere giù... Possiamo mettere giù... Cazzo! Dunque... Dunque... Sicuramente... Questo con carica... Che... Mi spacca questo. Con una piccola magia... Lo blocchiamo. A questo ci pensiamo dopo. Scudiero... Al mio fiato! Pronto signore! Ok... Allora... Provocazione assolutamente... E... Non ho molta scelta... E... Non ho molta scelta... E la vostra manetta... La manetta mi dà... Le magie... Ah... Ma nemmeno... Vedi... Due... Ore verde... Prima costava tre... Vediamo se... Che cosa si inventa... Non trasformare in piedi... Partita malissima... Bisogna risettare assolutamente... La situazione... Infligge sei danni... Allora... Spacchiamo questo... Dopodiché... Infliggiamo sei danni... Questo... Che così... Non aumenta più... Lo status di nessuno... Proseguiamo... I lupi bianchi sono pronti... E che cazzo... Queste carte sono... Cattivissime... Non è per niente a mio favore... La situazione... Peschiamo due carte... Trovo attenzione... E... Finito... Dai... Ho giocato... Da schifo... Ho giocato... Da schifo... Ho giocato... Ho giocato...